Allora ragazzi, l'Inter ha pareggiato in casa della Sampdoria 2-2 e sinceramente nel complesso un pareggio giusto perché comunque alcune occasioni hanno avuto anche la Sampdoria di poter fare il terzo gol e non le ha fatte perché non ha fatto una grande difesa all'Inter e tutto quanto, ma anche l'Inter ha avuto delle occasioni per poter fare il terzo gol e ha fatto una buona difesa la Sampdoria. Sinceramente ci può stare un pareggio fuori casa, soprattutto in casa della Sampdoria che è una buona squadra e soprattutto un campo difficile quello della Sampdoria. Quest'anno io l'avevo detto che la Sampdoria è tosta, c'ha Ciccio Caputo, c'ha Quagliarella, c'ha un buon centrocampo, un'ottima difesa per quanto è il punto libero della Sampdoria ovviamente perché ha preso altri due gol ma è un po' a voto e burro però per il resto ha fatto un buon secondo tempo. Sinceramente ci può stare. Sento e leggo forse un po' troppe critiche secondo me da parte di alcuni tifosi dell'Inter perché secondo me è un campo difficile. Se l'Inter avesse perso allora uno dice vabbè è andata in casa della Sampdoria a perdere addirittura un viaggio a voto. Ha portato un punto a casa che è difficile secondo me, quello è uno stato difficile soprattutto una squadra difficile da Sampdoria quest'anno io l'avevo detto che era difficile. Allora per quanto riguarda la partita Andanovic secondo me poteva fare qualcosina in più secondo me. Però c'è da dire che sui due gol presi dall'Inter soprattutto il secondo la rivesta dell'Inter lì non c'era. Sensi, sensi l'ennesimo infortunio. Questo ragazzo è molto sfortunato ragazzi e ha tantissimi infortuni e è anche forte e giovane. A me è sempre piaciuto anche quando non stava nell'Inter però c'è questa maledizione di infortuni che non gli permettono di continuare anche oggi l'infortunato e per 20 minuti, 25 minuti sono stati 11 contro 10 perché l'Inter non aveva sensi e negli ultimi 10 minuti anche senza un altro giocatore che si era fatto male mi sembra barella e quindi l'Inter ha sofferto parecchio. Da Dzeko mi aspettavo qualcosa in più, ha fatto poco e Vidal è entrato e mi aspettavo anche da Vidal che spaccasse un po' più la partita invece Vidal ha fatto poco e che dire la Sampdoria è tosta, mi aspettavo però da Sampdoria a livello di Ciccio Caputo, Guagliarella o qualcosa in più, Guagliarella è uscito, ha fatto poco e anche Ciccio Caputo e che sta solo e ripeto l'Inter ha avuto modo anche di poterla portare a casa ma comunque ha avuto delle occasioni anche alla Sampdoria. Ripeto ci può stare, se avesse perso l'Inter sendo un po' troppe critiche sinceramente sono stati beffati l'Inter perché l'Inter stava vincendo 1-0 e ti fai rimontare 2-2, ovvio che hai sbagliato la partita ed è sbagliato perché ti fai rimontare due gol dopo che vinci 1-0 come ha fatto la Juve con Napoli, non a caso, però è una Sampdoria fuori casa ed era lo stadio pieno della Sampdoria perché c'è da dire che quest'anno fuori casa e in casa cambia perché anno che in casa e fuori casa cambia parecchio perché c'è il pubblico, avendo il pubblico cambia parecchio quest'anno quindi rispetto al solito. Candreva che è l'ex ha fatto la partita della vita ma tutti gli ex che adesso sta la Sampdoria che stava all'Inter, tutti gli ex fanno una partita della vita e che dire, buon per Napoli ovviamente perché non ha fatto 3 punti neanche l'Inter quindi la sconfitta dell'Atalanta, il parigi dell'Inter e la sconfitta della Juve, ma ci mancherete solo la sconfitta della Roma o il parigi della Roma e il Milan-Lazzo con due porti dei punti, questo weekend non ci possiamo lamentare noi del Napoli, già lo so che dal prossimo weekend lanceremo delle parolacce esagerate, delle imprecazioni esagerate perché il Napoli ci farà bestimare, già lo so anche nel prossimo weekend perché il Napoli sono gioie di dolori, settimane che ride e settimane che piange, quindi Barella mi piace tantissimo come giocatore, ho detto oggi sei infortunato un po' ma è un giocatore forte, ha fatto l'assist anche per il gol ma a me piace tanto, è uno cazzo giovane, è forte, è un margine di miglioramento senza se non avesse gli infortuni pure sarebbe forte, ma troppi infortuni, un po' sfortuni e un po' secondo me anche un po' troppo fragile senza, secondo me come dico per i giocatori del Napoli, a volte sfortuni ma a volte no, e chi dire, complimenti alla Sampdoria perché comunque ha fatto una grande partita, e complimenti all'Inter comunque un punto fuori di casa, è uno strato difficile, uno stadio e cosa secondo me non è da buttare, sì sono due punti buttati se lo vedi nel complesso, ma se vedi la Sampdoria fuori casa e che partita ha fatto Sampdoria eccetera, è un punto guadagnato, è un punto guadagnato, quindi bisogna vedere secondo me da parte dei tifosi dell'Inter un bicchiere mezzo pieno, perché la vedo un po' così, secondo me, poi ovviamente bisogna avere i punti di vista e poteva fare qualcosa di più l'Inter sì, però la Sampdoria è stata tostissima, il problema è stata la difesa a Nanovic, perché prendere due gol quando stiamo vincendo 1-0, infatti di Baltari, a difesa il portiere, bisogna rivederli, ma mai quanto Scesni, ci vediamo nel prossimo video ragazzi forza Napoli sempre, forza Spallettoni, carico a Spallettoni Grazie per la visione! Grazie per la visione!